Un momento di convivialità organizzato da volontari per lunedì 12 novembre alle ore 20 in un noto locale dell'Agro, il Bagatto, che ha messo a disposizione il locale per accogliere chef stellati della nostra regione. Gennaro Esposito ed altri chef stellati prepareranno preribatezze per aiutare e dare un aiuto all'associazione che ha organizzato l'evento per consentire la costruzione di una scuola materna in un villaggio del Burkina Faso. A parlarne e a sponsorizzare l'azione di solidarietà è stata la moglie di Gennaro Esposito, che ha convinto il coniuge chef, il quale ha subito attivato i suoi amici chef stellati e tutti insieme saranno lunedì a Pagani al Bagatto per partecipare con la preparazione di piatti preribati al momento di solidarietà, in favore del Burkina Faso per la costruzione di una scuola materna. Siamo presenti in Burkina Faso dal 2008 dove è stato creato un centro sanitario e adesso si parte con una scuola materna. In effetti i bambini dei villaggi parlano solo il dialetto locale, il dialetto della propria etnia, quindi in un paese dove la lingua ufficiale è il francese, quindi è necessario per una loro inclusione che i ragazzi comincino ad apprendere il francese. La scuola materna darà questa opportunità. Un progetto che poi in effetti quando l'abbiamo lanciato, poi c'è stata la signora D'Antonio che ha abbracciato questo progetto ed è stata poi lei l'anima di questo evento. Allora, Gennaro Espos, mi sembra di averlo sentito qualche volta, spieghiamo chi è. Uno chef due stelle Michelin, il suo ristorante è Torre del Saracino a Seiano, Vichequenze. Diciamo che si impegna un pochino in questo mondo del pubblico. È un nome nella gastronomia. Ma poi non è nuovo a queste iniziative benefiche. Fa bene, questo fa bene all'anima. E' la prima volta che lui sposa questo progetto, grazie a loro perché ho potuto conoscere loro, li stimo molto e quindi hanno questo nobile progetto. E il pensiero è che ci sono bambini ancora nel mondo che si muovono di fame e noi possiamo aiutarli in qualche modo, piccolo modo, mi fa tanto piacere. Quando avverrà la manifestazione? Il 12 novembre, al Bagatto, il ristorante si trova a Pagani e abbiamo coinvolto tutte le eccellenze del territorio, o almeno una buona parte. Tutto il devoluto della serata andrà totalmente a questi bambini, alla costruzione di questa scuola.